UN TEMPO CONOSCEVO MIO FRATELO Voglio riavvicinarvi a lui. È importante. Eppure sai com'è fatto. Beh, colpito. È veramente strano sedersi davanti su una macchina della polizia, senza manette e con mio fratello al volante. Sì, sono diventato violento. Quando entro in una stanza, mi viene una gran voglia di spaccare tutta la regione. Non può toccarmi. Voglio che la tua vita sia felice. Tu hai fatto tutto quello che potevi. Lo so. Non è più un bambino ormai. Adesso ha un problema e dovrà anche risolverlo da sé. Vorrei sapere come posso aiutarti. Sei mio fratello. Vedi, ci sono solo due tipi di uomini in questo inferno. O sei un eroe o un fuorilegge. Tu che cosa sei? Sommertime, time, time, time. Ciao. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti